Fano, bimba di 5 anni investita da un'auto, fermato a Pesaro giovane pusher con un chilo di hashish, chiese sempre più vuote, affluenza dimezzata anche a Pesaro, mancato pagamento ad Aspes, pizza replica al Carlino, i nameless di Claudio Cecchetto chiuderanno la mezzanotte dei bambini. E nuovamente ben ritornato a Pesaro. Ritrovate carissime telespettatrici e carissimi telespettatori per questo telegiornale di oggi martedì 22 agosto che apriamo con una notizia che ci è arrivata qualche istante fa e che riguarda un grave incidente avvenuto oggi verso le 13 vicino al camping Mimosa Torrette dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza trasportando la piccola al pronto soccorso di Ancona. La dinamica dello scontro in fase di accertamento grazie ai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale. Ancora cronaca, facendo luce ora su un fatto che risale esattamente a un mese fa ma reso noto solamente ora. Era il 22 luglio scorso quando la squadra mobile di Pesaro e Urbino, nel corso di un'indagine svolta sul traffico di stupefacenti, si è recata presso l'abitazione di un minorenne ritenuto coinvolto nella vicenda. Alla loro vista il giovane ha consegnato una prima dose di hashish, vale a dire due panetti che custodiva nel comodino di camera sua, assieme ad un bilancino e ad un'altra quantità dello stesso stupefacente. Dopodiché il minorenne ha consegnato ai militari anche uno zainetto in cui erano contenuti altri nove panetti di hashish e materiale per lo smercio, facendo ammontare il quantitativo ad un totale di oltre un chilo. Il minore ora è sotto custodia cautelare presso l'Istituto Penale per i minorenni. Le chiese italiane sono sempre più vuote. A rilevarlo è un dato Istat che dimostra come i luoghi di culto cattolici abbiano visto dimezzare l'affluenza negli ultimi vent'anni. Anche la diocesi di Pesaro Rubino è in linea con questa tendenza, come ci ha confermato il prossimo vicario Don Marco Di Giorgio. Chiese sempre più vuote e un senso di marcia sempre più difficile da invertire. Mai come nel 2022 si è vista un'affluenza così bassa con presenze dimezzate nell'arco degli ultimi 21 anni. Si è passati infatti da un popolamento del 36,4% nel 2001 al 18,8% attuali. Sono numeri significativi quelli rilevati da Istat qualche giorno fa e che mettono in luce il claudicante stato di salute del movimento cattolico in Italia. Un callo progressivo implementato però da una perdita importante di partecipazione dovuta alla pandemia da Covid. Ha avuto inizio così l'analisi di Don Marco Di Giorgio, parroco di Montecchio e prossimo vicario della diocesi di Pesaro Urbino. Come impressione generale credo che non siamo né peggio né meglio della media nazionale. Non siamo un'isola felice ma neanche un'isola infelice. Siamo nella media, cioè con questo calo che da anni si registra e a cui la pandemia ha dato un bel contributo in negativo e sicuramente assistiamo tutti a non solo un calo di presenze ma anche a un calo di presenze giovanili in chiesa. Diciamo che la maggior parte dei fedeli praticanti cosiddetti hanno più di 60 anni, forse 65, mi pare così. La partecipazione è dimezzata, come giudica questo passo indietro fatto in questi vent'anni? Beh ecco, un po' come dicevamo, un po' è un trend, cioè una tendenza che viene da lontano insomma, noi viviamo in un contesto come si dice secolarizzato, individualista, relativista, cioè viviamo dentro una cultura che uccide il cristianesimo da un punto di vista centrale nei suoi valori che invece sono i valori della fraternità, dell'aiuto, della comunità, del vivere insieme nel nome di Cristo. Quindi diciamo non è che c'è da sorprendersi se questa tendenza va avanti e forse andrà ancora avanti. Un contributo negativo è stato dato in questi anni dalle classi di età più giovani, diminuiti di due terzi rispetto al ventennio passato. Proprio per questo il movimento cattolico tenta di invertire la rotta, prestando ancora più attenzione alla giornata mondiale della gioventù che quest'anno si è tenuta in agosto a Lisbona. Quello per esempio è stato un bellissimo segno di speranza, credo che nessuno si aspettasse così un numero così elevato di partecipazione almeno in Italia. In Italia gli iscritti ufficiali, poi c'erano anche quelli non iscritti, sono stati 65.000, 65.000 ragazzi diciamo dai 16 anni in su che hanno voluto provare questa esperienza. Quindi un bellissimo segno di speranza e credo che i giovani, come giustamente da sempre sono tali, sono in ricerca di qualcosa di bello e di grande per la loro vita, qualcosa che riempie il cuore e che la società virtuale consumistica non dà perché certo riempie il cuore con i video, con i like, con i social, con le cose firmate ma alla fine non ti basta. A seguito di un articolo di giornale comparso oggi sul resto del Carlino, in cui è stato riportato che il presidente di Tal Service, Lorenzo Pizza, doveva versare ad Aspes un arretrato di 5.000 euro in merito al ritorno dei play-out del 27 maggio scorso alla Vitrifrigo Arena? Il patron del calcio 5 pesarese ci ha tenuto a replicare, negando ogni frase riportata dal quotidiano. Sentiamo insieme le sue parole. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato sul mio cellulare un 25-30 messaggi di miei amici chiedendomi cosa fosse successo e il senso di quell'articolo che fosse uscito sul giornale. Inizia a leggere l'articolo, inizia a leggere il trafiletto, pizza deve 5.000 euro ad Aspes, ma lì per lì non riuscivo veramente neanche a capire di cosa si parlasse, che cosa intendesse, a cosa si riferisse. Poi vado a leggere nel dettaglio, quel punto mi è sembrato veramente fantascienza, un'invenzione totale. Sono rimasto scioccato quasi, perché non capisco il senso di questi articoli, tra l'altro completamente falsi, cioè non c'è nulla di verità, non c'è niente, non c'è un filo di verità, anche perché le cifre sono sbagliate, la fattura era già stata pagata da un mese circa, ma poi non capisco il significato, cioè il significato di certi articoli fatti proprio per ledere e screditare il buon nome di una società, di una famiglia. Tra l'altro questa volta ho deciso di rivolgermi alle vie legali, quindi ti farò una querela, perché comunque qui c'è una lesione della mia immagine, viene lesa la mia immagine, viene lesa la mia credibilità, viene lesa la mia serietà, perché comunque è una fattura che è stata pagata, è stata saldata e quindi non c'è nessun contenzioso, e quindi ho deciso tramite l'Avvocato Orciani di procedere per vie legali, perché bisogna che io tuteli la mia immagine, la mia serietà, ma mia, della mia famiglia, delle nostre società. Bisogna che comunque ci sia un ordine, una linea morale, diontologica, anche da parte dei giornalisti, infatti comunque verrà fatta una segnalazione all'ordine dei giornalisti. Però penso che anche Aspes debba fare chiarezza, perché bisogna capire da chi escono certe notizie, tra l'altro false, chi è che dà certe informazioni al giornale, io penso che comunque la diligence, lo staff dirigenziale di Aspes debba un attimino così fare chiarezza del perché escano certe notizie infondate. Io adesso parto con le vie legali, andrò per vie legali, quindi prima partirò col Carlino e poi dopo vorrò capire perché Aspes o come abbia fatto il Carlino ad avere certe informazioni. L'imprenditore e leader del movimento Io Apro, Umberto Carriera, non si candiderà come sindaco di Pesaro alle prossime elezioni amministrative. Lo ha comunicato lui stesso ieri sera dopo aver organizzato un incontro con altri cittadini per formare insieme una nuova lista civica. L'imprenditore Umberto Carriera, nonché leader di Io Apro, non si candiderà a sindaco di Pesaro per le amministrative 2024. Ad allontanare qualsiasi voce è stato lui stesso ieri sera all'incontro avvenuto al Circolo di Muraglia, da lui organizzato per lanciare il progetto Ribaltiamo Pesaro, dedito alla costruzione di una nuova lista civica. L'invito a parteciparvi era libero ed esteso a chiunque, dove dialogo e idee hanno lasciato spazio a nuove proposte per la Pesaro del futuro. Di partecipare attivamente come candidatura? No. Sicuramente darò una mano il più possibile. Tutta la mia visibilità mediatica che è stata in questi anni è sicuramente utile. I gruppi di lavoro che abbiamo creato saranno sicuramente utili. Il mio nome difficilmente sarà tra le liste relative alla candidatura. È piuttosto prematuro dire a cosa bisogna puntare, e a chi bisogna puntare. Prima dobbiamo capire se tra di noi ci sarà un accordo per quanto riguarda il programma, se troveremo un candidato sindaco condivisibile per tutti, poi ci sarà tempo per capire dove si può arrivare. Le idee sono tante, sappiamo tutti cosa funziona Pesaro e cosa non funziona, ma parlare oggi di un programma, quando ancora non si sa se ci sarà una lista, come si chiamerà e chi sarà il candidato sindaco, chiaramente è prematuro. Tra qualche settimana qualche mese sicuramente avremo le idee più chiare. Io credo che dei buoni amministratori debbano essere stati anche dei lavoratori, poi buoni o cattivi, quello è difficile da capire. Guardando chi oggi amministra la nostra città, se facciamo l'esempio del sindaco, il sindaco non ha mai lavorato in vita sua, è buon per lui. Poi è chiaro che fare il sindaco o fare il presidente di provincia o fare il consigliere può essere visto come un lavoro. Io parlo di lavoro sul campo. Certo che un imprenditore, piuttosto che un medico, piuttosto che un professore possono sicuramente dare delle idee all'interno dell'amministrazione comunale che magari chi non ha mai lavorato fa fatica a percepire. Il noto produttore discografico Claudio Cecchetto ha da qualche settimana scovato una giovane band di ragazzi pesaresi iniziando a collaborare con loro. Il gruppo si chiama Nameless e domenica 3 settembre si esibiterà alla mezzanotte bianca dei bambini. Andiamo a scoprire chi sono. Loro si chiamano Nameless, un gruppo rock pesarese senza nome ma con una chiara identità. Innanzitutto vi chiedo nome, cognome e strumento. Io sono Simone Bellachioma, suono la tastiera e faccio i cori. Lorenzo Schiesaro, cantante, basso e chitarra acustica. Io mi chiamo Guido Rastelletti e faccio percussioni e cori. Edoardo Ricciarini, chitarra ritmica e basso. Tommaso Santini, chitarra sul lista. Sono cinque ragazzi giovanissimi nati tra il 2008 e il 2009 e la loro vocazione musicale li ha portati da neanche un mese a collaborare con il punto di riferimento per eccellenza quando si parla di talent scout. Sotto l'ala protettiva di Claudio Cecchetto i Nameless concluderanno il loro primo tour proprio a Pesaro il 3 settembre in Piazza del Popolo in occasione della Mezzanotte Bianca dei Bambini organizzata da Pautes e coordinata da Pesaro Village e Coccole Sonore. E voi cinque come vi siete conosciuti? Cos'è che vi ha comunato? Allora noi andavamo insieme alle medie e noi quattro abbiamo iniziato nella scuola nostra il progetto della band della scuola e abbiamo suonato il concerto insieme quindi abbiamo deciso di riunirci e abbiamo poi preso anche lui che quella volta non c'era ma l'abbiamo aggiunto in seguito. E da qui il nome Nameless come è nato? Allora abbiamo cercato tanti nomi e l'unico nome che abbiamo trovato è questo che ha detto Tommy una volta perché avendo tanti nomi che non sapevamo scegliere abbiamo scelto proprio senza nome vuol dire Nameless. Il vostro tour si concluderà appunto a Pesaro per la Mezzanotte Bianca dei Bambini che emozione avete nel tornare a Pesaro e nel cantare davanti al vostro pubblico? Siamo molto contenti di concludere qua perché è la nostra città e poi sicuramente ci sarà anche molta gente che conosciamo e sono molto felice di suonare qui e sarà anche il giorno del mio compleanno. I War Republic è la loro fonte di ispirazione, l'amicizia a renderli affiatati, il giovane talento a tenere alte le aspettative. Io spero sempre di vivere una vita davanti sul palco, davanti a tante persone e spero magari un giorno di suonare in un grande stadio, ad esempio un Olimpico, un San Siro magari. Siamo anche in Nameless. Certo, certo, tutti insieme. Siete da ora sotto l'ala protettiva di Claudio Cecchetto, che sensazione va fatto e vi ha provocato questo nome e se lo conoscevate già? No, in realtà allora, io lo conoscevo di nome ma perché è il padre di Jody Cecchetto e quindi anche loro credo lo conoscevano Jody e quindi lo conoscevamo per quello, però sapevo dopo, ho anche indagato, sapevo che era un importante talent scout e abbiamo visto tutti i nomi che ha scoperto e quindi siamo molto fieri di essere con lui. Claudio Cecchetto, come è nato questo rapporto intimo tra di voi e che cosa ha intravisto in loro? Ma io ho visto un loro video, ho visto che erano giovanissimi, mi ha interessato questa cosa, ho detto allora non solo baby gang ma anche baby band, anzi sono le cose che più mi interessano e quindi ho voluto avvicinarli, sono andato ad una festa, alla festa del Basilico, perché sapevo che suonavano lì, hanno fatto un'ora e mezza di spettacolo, mi hanno interessato e quindi gli ho proposto e ho detto perché non fare un piccolo mini tour estivo, visto che avete finito la scuola, siete in vacanza e devo dire che avevano già organizzato le loro vacanze e invece hanno cambiato tutto il programma e adesso sono in tour. Io sono venuto qua sapendo che era la città della musica e ho incontrato dei giovani che fanno buona musica. Appuntamento quindi al 3 settembre, che cosa porteranno sul palco i Nameless? Beh, il loro repertorio ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta, che hanno fatto anche un brano inedito, quindi probabilmente presenteranno in anteprima questo brano. Dal titolo? Quando mi abbandoni? In bocca al lupo a lei e ai Nameless? Alla grande, anche a voi. Dimmi che quando io non ci sono friggi le mie mani Come ultime esibizioni per il 2023, il Grand Festival in collaborazione con la Via Rose di Pesaro, la Festival Center di Minsk, ci offre il 23 agosto alle ore 20 e 30 in piazzale Toschi Mosca una sfilata del teatro della moda con costumi tipici accompagnati da cantanti, mentre il 24 agosto, sempre alle 20 e 30, in piazzale della Libertà verrà portato in scena uno spettacolo di moda, teatro, canto e balli folcloristici. E' stato rinviato al prossimo novembre l'ultimo concerto della 19esima edizione del Festival dei Vespri d'Organo. L'evento dal titolo Parola di Isacco, che avrebbe dovuto tenersi giovedì 24 agosto nella chiesa di Cristo Re, riguardava una conversazione teatrale per musica, voce narrante e pittura dal vivo, ma per causa di forza maggiore sarà rimandato al prossimo novembre con data ancora da stabilire. Ed ora le immagini che vi mostriamo ci sono state girate da un nostro telespettatore che ha voluto condividere con noi la presenza di un gruppo di delfini al largo della costa pesarese. Video ripreso proprio questa mattina durante un giro in barca tra Baia Flaminia e Fiorenzuola di Focara, dove ad emergere dall'acqua, oltre che dalle immagini, ci sono circa tre mammiferi marini. Al termine di quattro giorni si è conclusa la 54esima edizione del Palio dei Brancaleoni di Piobbico. Con le nostre telecamere siamo andati a raccontarvi da vicino questo storico evento che trasmetteremo giovedì 24 agosto alle 21.20. Ora guardiamone una breve sintesi. Le mie parole questa sera sono solo di un grande compiacimento nell'aver visto tantissime presenze. E quindi questo non fa altro che dare lustro a tutte le persone, per primo il Presidente da Proloco, ma tutti gli organizzatori della sfilata. Ed ho visto il piacere questa sera di vedere tantissimi giovani a impegnarsi per la loro comunità. Quindi il mio piacere è solo ringraziare in questa serata queste persone, perché se noi nelle piccole comunità riusciamo a fare certe cose, è grazie all'impegno volontario delle persone. Si scherzava prima fuori onda sul fatto che in queste occasioni c'è il rischio che il sindaco diventi un tour operator, no? Qui invece c'è uno spirito di comunità forte che fa sì che si vada ben oltre il fatto di attirare comunque un pubblico sempre ben apprezzato. Però lo si attira non con degli espedienti, con degli acquisti, con delle scritture, ma lo si attira con un prodotto locale. Allora, se dovessi essere un tour operator, il mio paese sarebbe fallito. Io ho le mie capacità, come è giusto che sia un sindaco, di non mettere immagine, perché io oggi qui sto mettendo un'immagine sfruttando il lavoro di altre persone. Io penso che la qualità di un sindaco sia di saper coinvolgere la gente e trovare le persone che si impegnino per far sì che questo esista. Questa rievocazione storica è sempre più sentita nel paese. Noi organizzatori cerchiamo di curarla in ogni minimo dettaglio, portando anche dei cambiamenti, miglioramenti, facendo anche esperimenti, quindi provando. E quindi ecco, questa sana competizione stasera nel momento del sorteggio, che di per sé è un momento molto sentito, molto di suspense, è un po' venuta fuori, ma adesso poi dopo i rioni faranno tutte le dovute osservazioni del caso. E poi abbiamo sentito che siamo alla 57esima edizione, non è una cosetta improvvisata, reinventata o inventata così, insomma questa ha una storia che non è antica come la storia del palazzo, è la storia della famiglia Brancaleoni che sappiamo che è pluri, 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 pluricentenaria, però comincia ad essere una bella tradizione anche questa. Sì, sì, assolutamente, da qualche anno, da quando diciamo abbiamo un po' anche investito, quindi riprendendo in mano la rievocazione è cresciuta tantissimo, il pubblico è veramente tanto e finalmente mi sento di dire che è diventata, sta diventando sempre di più, ma quest'anno abbiamo fatto un passo ulteriore, un motivo per visitare Piobbico turisticamente, quindi un motivo di attrazione turistica. Ed ora lo sport con la VL che ieri pomeriggio ha incontrato i propri tifosi prima di partire per la tradizionale ritiro di Carpegna precampionato, un'atmosfera carica di entusiasmo in vista della nuova stagione ormai alle porte. Tutto all'amore del popolo bianco-rosso ai piedi dei giocatori della nuova VL. Una marea di 300 tifosi ha salutato ieri pomeriggio la squadra di coach Buscaglia alle prese con la partenza programmata destinazione Carpegna per iniziare il consueto ritiro precampionato. Un incontro caloroso avvenuto all'esterno dell'hotel Flaminio dopo le rituali visite mediche svolte tra ieri e domenica e che ha visto il coinvolgimento e il trasporto emotivo da parte di tutti i giocatori tra confermati e nuovi acquisti. Foto, autografi e cori di incitamento per accogliere la nuova stagione della Carpegna Prosciutto che partirà ufficialmente il primo ottobre sul parquet di Brescia. Si parte per una nuova avventura e stagione, adesso andiamo in un bel posto dove possiamo lavorare, dobbiamo quotidianamente creare il nostro gruppo creare la nostra squadra, stare bene insieme coesione, affiatamento, unione di utenti, condivisione tutto quello che fa di una squadra qualcosa in più di più che vale e poi andiamo in campo. I primi giorni sono anche giorni di apertura quindi un lavoro che è atletico, fisico, mentale. Inizio io sono uno che va molto passo dopo passo quindi l'appuntamento è il 3 settembre perché è bello dopo 10-12 giorni avere una verifica del campo è bello farla subito con una squadra di livello al di là delle presenze o assenze è bello coinvolgere tutti quanti ed è bello riuscire a vedere le prime verifiche di quello che stai facendo è un percorso che deve arrivare alla prima palla 2. Visibilmente emozionato per la stagione che verrà anche Matteo Tambone, neo capitano biancorosso reso ufficiale due giorni fa. Essere capitano già di una squadra è importante ma della Welli è ancora di più è una società storica veramente emozionante ma al stesso tempo sono carico e pronto per incominciare. Sicuramente la voglia di portarci a casa qualcosa è tanta quindi cominciare col piede giusto ma con l'idea di poter vincere qualcosa sarebbe molto figo. Abbiamo Brescia e Venezia subito squadre importanti dobbiamo dimostrare di essere già all'altezza nelle prime partite quindi è giusto incominciare molto concentrati. Beh, classica settimana di duro lavoro sia a Matteutino che pomeridiano dove ci sarà una parte di potenzialità fisica atletica, pesistica per poi pomeriggio andare a lavorare sui fondamentali e sulla tecnica e ovviamente sulla costruzione del nuovo gioco con il nuovo allenatore tutte le cose che piano piano bisogna costruire. Per noi una cosa fondamentale è tutto questo entusiasmo che si tramuti in abbonamenti, in biglietti perché chiaramente abbiamo bisogno del pubblico anche per le nostre finanze. E siamo giunti in conclusione anche questa sera del nostro Rossini News diamo un'occhiata al palinsesto del nostro canale questa sera in prime time alle 21.20 Gradara Wine Passion con la nostra Nicoletta Tagliabracci che ha ritagliato per noi questo bellissimo speciale e l'appuntamento con l'informazione rimandato come sempre domani mattina ore 7.20 in diretta anche dalla nostra pagina Facebook per leggere insieme le principali notizie del Corriere Adriatico e del resto del Carlino. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione per essere stati in nostra compagnia e adesso le previsioni del meteo e come sempre mi raccomando non cambiate canale. Grazie.